Il cuoce è stato desiderato, 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 il cuoce è stato desiderato. Giovanni. Infatti nel primo movimento di questo Salmo noi sentiamo una grande, dolce celebrazione dell'amore e del perdono di Dio. Il volto di Dio è quello contrassegnato dalla tenerezza, dalla pietà, è colui che perdona, che guarisce, che salva e anzi lentamente si ha quasi la rappresentazione di un volto paterno che si china non soltanto su tutto Israele, sul popolo, ma anche sul singolo. E c'è questo curvarsi di Dio che è particolarmente delicato, particolarmente attento perché la creatura umana è una creatura fragilissima. È rappresentata come un fiore che sboccia in un campo verdeggiante, ma il vento del deserto gli piomba addosso col suo soffio infuocato e il fiore a sera si dissecca riducendosi a un po' di polvere irriconoscibile. Dio però si china su questo essere caduco per liberarlo, per salvarlo. Salmo 103 di Davide Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie gesti di salvezza e agli oppressi fa giustizia. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande il suo amore verso quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre è buono con i suoi figli, così il Signore è buono con quanti lo temono. Perché egli sa che siamo stati plasmati dalla terra, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste. E il luogo stesso in cui è sbocciato, più non lo riconosce. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutte le sue schiere, suoi ministri, che eseguite il suo volere. Benedite il Signore voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Benedita il Signore voi tutte le sue, in ogni luogo delle sue, in ogni luogo del suo Grazie a tutti.